La Juventus è in finale di Coppa Italia, dove si scontrerà contro l'Atalanta per il titolo il 15 di questo mese. Se la Juventus conquistasse la Coppa Italia, potrebbe cambiare qualcosa riguardo ad Allegri? In un'intervista con Dazon, Andrea Barzagli, ex giocatore della Juventus, ha parlato così riguardo a ciò. Non so se la dirigenza possa valutare un nuovo allenatore o riconfermare Allegri in base a una Coppa Italia. Non lo so. Anche perché è una gestione, parliamo di Giuntoli, ok? Chi ha aspettato, ha concluso e ha già trovato un allenatore. Non ha fatto il trasferimento che voleva, si sta preparando per quest'anno, non so cosa abbia in mente per il futuro, ma sta valutando fin dall'inizio dell'anno. Non penso che cambierà, ma un trofeo alla Juventus è sempre importante. La finale di Coppa Italia vinta da Pirlo, era una Juventus alla fine del ciclo, ma avevano ancora giocatori pronti in finale. Quest'anno, credo, sono molto aperti. L'Atalanta è maturata, la Juventus ha una squadra che può vincere, ma non ha mai dimostrato questa forza, ha detto Barzagli.